Un gruppo definito pericoloso dai militari dell'arma che grazie a una meticolosa attività di indagine, all'utilizzo del DNA degli indumenti lasciati dai malviventi alla videosorveglianza delle telecamere, hanno bloccato gli otto foggiani che si sono resi responsabili di assalti ai bancomat di Canosa Sannita, Miglianico e Guardia Grele. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti hanno eseguito tra Chieti e Foggia otto misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Chieti su richiesta della locale Procura della Repubblica, sette in carcere e uno i domiciliari, tutti pugliesi, per gli assalti ai bancomat avvenuti nei mesi di settembre-ottobre 2021 nella provincia Teatina. Il colonnello Alceo Greco, comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, spiega come questi malviventi dalla Puglia arrivavano in Abruzzo per effettuare dei sopralluoghi che avevano come base logistica Francavilla al mare. Greco afferma che non si facevano scrupoli per la pericolosità del materiale esplodente ai danni dell'incolumità di residenti e cittadini usando la tecnica della cosiddetta marmotta. Quali sono i reati contestati a questi otto soggetti? Allora, vi è un profilo associativo collegato al territorio della provincia di Chieti. Inoltre questo gruppo per perpetrare queste azioni dilettuose faceva una serie di sopralluoghi ma soprattutto nell'ambito dell'azione esecutiva ricorreva prima al furto delle autovetture e poi utilizzava materiale esplosivo anche di elevato a fattura per far saltare questi ATM con inevitabili possibili pericoli come abbiamo visto per esempio nell'episodio di Guardia Grele dove la deflagrazione è stata veramente forte che oltre a creare un problema alla struttura abbiamo rinvenuto parti dell'esplosione anche a oltre 30 metri dal luogo. La base è qui nella provincia di Chieti. A Francavilla al mare? Sì, nella zona di Francavilla. Dunque pendolari del furto perché venivano a fare sopralluoghi e poi tornavano in luogo? Beh, ormai parlare di una criminalità locale nel senso che si perpetra il reato dove si abita è difficile. Ormai purtroppo assistiamo alla globalizzazione del crimine. Da sottolineare come per le indagini siano stati utilizzati svariati mezzi. È chiaro che si è fatto riferimento al DNA, si è fatto riferimento ad accertamenti informatici. Ormai la criminalità non è più una criminalità agresta, è una criminalità sempre più vicina a quello che è la nostra società. Quindi si fa uso di apparati tecnologici, si fa uso di materiale biologico che poi, come abbiamo visto anche in altri procedimenti penali, poi diventa fondamentale per la condanna o anche per l'assoluzione dei soggetti. Da ultimo il nome dell'operazione? Giulietta. Eh, probabilmente avevano un sistema per rubare questo tipo di macchine e poi purtroppo sappiamo anche per storia giudiziaria che si cerca sempre di commettere reati con macchine alquanto comuni. Ci sono ancora le banconotte da 20 euro sparse.